Buongiorno cari amici viaggiatori, che piacere potervelo dire, benvenuti in Islanda e per la precisione eccoci nella capitale Reykjavik, pronti a scoprire qualcosa in più di questa città. E alle mie spalle quella che vedete qui è la chiesa di Algrim, la più grande di tutta l'Islanda, la cui architettura è stata ispirata alle colonne di basalto della cascata di Svartifos che vedremo nei prossimi giorni. Grazie a tutti. E qui davanti a me invece vedete la statua di Leif Erikson, secondo gli islandesi avrebbe scoperto l'America nell'anno 1000, quindi ben 500 anni prima di Cristoforo Colombo. Uno dei modi più comodi ed ecologici per scoprire Reykjavik è farlo in monopattino. Grazie a tutti.